sindacati in piazza contro le stragi sul lavoro opere di società autostrade aggiunti 100 milioni di euro elezioni a fano il 7 aprile le primarie del centro sinistra scavi a fano da piazza costa emergono scheletri e opere murarie 39 sabati con tutte le opere di rossini nei concerti dal balcone una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione serale di rossini news telegiornale del canale 80 che in questa edizione di mercoledì 21 di febbraio apriamo col significato di questa data che ha visto in tutta italia le categorie del settore edile e metalmeccanico indire uno sciopero di due ore in seguito alle tragiche morti sul lavoro avvenute a firenze lo scorso venerdì uno sciopero che a pesaro è stato anche corredato da un sit in in piazzale collenuccio indetto dai sindacati cgl will basta morti sul lavoro e questo lo striscione esposto da cgl will a pesaro in un piazzale collenuccio a sostegno dello sciopero nazionale indetto dai due sindacati per chiedere più tutele più controlli e più sicurezza in piazza per chiedere degli interventi immediati per fermare questa strage a cui assistiamo ogni giorno e ogni anno in italia di lavoratrici e lavoratori che si alzano per andare a lavorare e non tornano a casa degli strumenti per mettere mano a questa situazione ci sono noi chiediamo che vengano adottati servono rinforzi per gli ispettori del lavoro per i servizi di prevenzione serve intervenire e modificare la regolamentazione degli appalti perché quello che sta succedendo è che quando vengono dati degli apparti non c'è la possibilità di controllare chi lavora che contratti applica che garanzie offre il lavoro è sempre più povero sempre più precario e le persone non è più accettabile nel 2024 che ci siano così tanti morti che sono equivalenti a quelli che c'erano cent'anni fa può la mattina andare a lavorare e non tornare a casa questo è dovuto perché non ci sono non sono stati messi in campo una serie di azioni volte proprio a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro zero morti sul lavoro è proprio la campagna che a livello nazionale la will sta portando avanti da molto tempo per farlo sono state messe insieme una serie di piattaforme che come sindacati abbiamo realizzato perché il governo metta assolutamente in piedi alcuni interventi interventi che sono stati disattesi fino a questo momento e soprattutto sulla possibilità di aumentare quelle che sono le risorse che consentirebbero maggiori controlli sui cantieri. Il problema è questo ed è fondamentale che se non si capisce che la cosa più importante in un'azienda è la sicurezza sul lavoro noi questa cosa qui non la finiremo mai l'anno scorso l'anno prossimo tra due anni tra tre anni troveremo sempre a contarci i morti cosa significa 30 anni fa c'erano 7000 morti all'anno ecco per fare un esempio adesso ce ne sono 1.300 tanto è stato fatto ma non basta purtroppo non basta. Ogni morto sul lavoro ogni incidente ogni infortunio ha una responsabilità e spesso è dovuta al fatto che si vogliono risparmiare dei soldi e gli investimenti per la sicurezza per l'azienda sono soldi sprecati. Al fianco dei sindacati anche i lavoratori di alcune ditte del territorio stanchi di apprendere di queste tragedie che negli ultimi 15 giorni di febbraio registrano più di 40 morti. Sono qui per dimostrare il mio dissenso e la mia indignazione da parte mia e di tutti i miei colleghi rispetto a queste morti che si verificano ogni giorno in Italia siamo sulla media di tre morti al giorno e non è possibile che in Italia nel 2024 si verifichi ancora questo bisogna pensare solo a una cosa che al di là delle morti questo è un problema grosso anche per l'economia pensare che un'azienda adesso bisogna che si fermi ci siano delle indagini problemi legati alle famiglie alla scuola a tutto quello che raccoglie dietro un avvenimento e una tragedia del genere. In generale come delegato come operaio sento sempre di più parlare di persone che anche rischiano di farsi male e le aziende tendono ad ignorare questo genere di problematica. Il concetto di salute e sicurezza è sempre meno presente nel dibattito circa il lavoro e questo è increscioso contando che siamo una Repubblica fondata sul lavoro quindi io credo che sia la mia richiesta è la seguente chiedo semplicemente che si riparta da questo una Repubblica fondata sul lavoro il lavoro è egemone. E restiamo nell'ambito di tematiche di respiro nazionale con riflessi sulla nostra regione perché oggi il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la protezione civile Nello Musumeci ha deciso di stanziare ulteriori 3 milioni di euro per interventi legati agli eventi sismici del 9 novembre 2022. I fondi riguarderanno i territori dei comuni di Pesero, Fane e Ancona come dichiarato dal deputato di Fratelli d'Italia Antonio Baldelli. E arrivano anche importanti stanziamenti per il completamento dei cantieri a Pesero legati alle opere compensative di Società Autostrade per la realizzazione della terza corsia della 14. Vediamo il servizio. A Pesero sale a quota 170 milioni di euro lo stanziamento per le opere compensative alla realizzazione della terza corsia della 14. E' quanto annunciato dal sindaco Ricci e dall'assessore Mila della Dora in seguito all'approvazione in giunta dell'atto aggiuntivo della Convenzione del 2013. Un documento originario che fu siglato dall'amministrazione con Società Autostrade insieme a provincia e regione che stabiliva 74 milioni di euro per le opere compensative all'ampliamento della 14. Oggi lo schema viene aggiornato superando i 170 milioni che consentiranno anche il recupero degli interquartieri stralciato nella precedente fase. L'aggiornamento del quadro economico vecchio di 11 anni dà dunque risposta all'aumento dei costi per le lavorazioni, all'inflazione e al rialzo delle cifre per gli espropri. Terminato in aprile l'interquartiere di Muraglia si procederà poi con la bretella di Santa Veneranda, il raddoppio dell'Urbinate e la bretella Fratelli Gamba che dalla Monte Labattese si collegherà all'attuale casello. L'ultima opera sarà il casello unidirezionale di Santa Veneranda. Continuiamo a parlare di strade perché tra 20 giorni circa verrà riaperta la galleria Cagulino di Urbino in un unico senso di marcia nella direzione Urbino-Fermignano. Lo ha annunciato oggi il sindaco di Urbino Maurizio Gambini per aggiornare lo stato della situazione sulla prolungata chiusura del collegamento sulla statale 73 bis interrotto dalla tragedia stradale del 27 dicembre quando si verificò un incidente in cui persero la vita i quattro componenti di un'ambulanza dell'apotesi di Fossombrone scontratasi con il pullman di una gita parrocchiale in cui restarono illesi tutti i passeggeri di origine ascolana. La galleria ha subito danni per circa 4 milioni di euro e i lavori di ristrutturazione proseguiranno nei prossimi mesi. Le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono invece ad un incendio di un'auto vettura che ha preso fuoco proprio in uno snodo strategico della viabilità della zona centro mare di Pesaro ovvero sulla statale adriatica a pochi passi dall'incrocio con Viale della Repubblica e Largo Moro. Attorno alle 11 di questa mattina una Golf ha preso fuoco dal motore e il giovane a bordo ha abbandonato la vettura. Le vicine attività commerciali sono intervenute con estintori prima dell'arrivo dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area che ha poi visto inevitabili disagi al traffico veicolare. Lutto nel mondo del giornalismo e della cultura pesarese si è spenta ieri infatti all'età di 87 anni Ivana Baldassari, storica firma del resto del Carlino. La Baldassari raccontò a lungo la cultura della città a cominciare dal Rossini Opera Festival e dalla sua passione per la pittura tant'è che ve la stiamo mostrando in immagini di 5 anni fa che la ritraggono in un documentario realizzato per Rossini TV in merito agli acquerelli del Vilino Ruggeri di Franco Fiorucci. I funerali di Ivana Baldassari si svolgeranno venerdì alle 10.30 nella chiesa di San Carlo. La Baldassari lascia i figli di Maria Stella e Francesco che ieri l'ha ricordata attraverso una struggente lettera pubblicata su Facebook. Cambiamo argomento e ci occupiamo di politica. Lo facciamo spostandoci a Fano, città dove il centro-sinistra ufficializza le elezioni primarie per scegliere il candidato a sindaco in vista della seguente chiamata alle urne dell'8 e 9 giugno. Primarie che si terranno il 7 aprile e alle quali si candidano quattro assessori dell'attuale giunta di Massimo Seri. Due mesi prima delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno Fano sceglierà il suo candidato a sindaco per il centro-sinistra attraverso le primarie. Il 7 aprile gli elettori di centro-sinistra della terza città delle Marche saranno infatti chiamati a scegliere fra quattro candidati per altrettanti assessori uscenti della giunta Seri. Vale a dire Cristian Fanesi, Etian Lucarelli, Samuele Mascherin e Cora Fattori. Primarie che sono state illustrate oggi in una conferenza stampa tenutasi al Bar d'Axi in piazza 20 Settembre. Abbiamo tenuto il centro-sinistra unito nella nostra città ed è il centro-sinistra che in questi anni con il sindaco Massimo Seri ha governato la città. Sono state realizzate tante cose, la città è cresciuta 250 milioni di investimenti in questi 10 anni 140 milioni sono in corso d'opera proprio in questo periodo di tempo e quindi nel tenere il centro-sinistra unito abbiamo voluto dare voce ai cittadini fanesi ovvero i cittadini fanesi sceglieranno chi sarà il candidato a sindaco del centro-sinistra. È un modo democratico per non far scegliere il candidato nelle segrete stanze oppure candidati che vengono scelti fuori dalla città di Fano come capita peraltro al centro-destra sapendo che il candidato del centro-destra in questo momento è un candidato che soprattutto all'inizio ha insistentemente detto di no oggi invece fa il candidato perché magari lo vogliono ad Ancona o a Roma invece qui a Fano decideranno i cittadini fanesi che il 7 di aprile saranno chiamati a decidere dalle 8 alle 20 nei seggi che poi verranno successivamente comunicati chi sarà il candidato a sindaco per il centro-sinistra. Finalmente partono le primarie, le abbiamo aspettate tanto un momento di confronto democratico e di collaborazione anche con i miei colleghi e non di scontro. Questo è uno stimolo per fare sempre meglio e sempre di più nell'interesse della città. Abbiamo tanti progetti con il sorriso sulla bocca e speriamo di poter ascoltare tutta la città per poter fare il meglio. In questo anno, che è stato velocissimo, già tante cose sono state fatte anche significative e anche non banali. Immaginiamoci in cinque anni se ci dessero fiducia gli elettori. 7 di aprile, una data ovviamente che sarà importante per tutta la città non solo per quattro candidati. Ci aspettiamo una partecipazione di migliaia di persone e ovviamente per noi è importante ribadire che il candidato o la candidata del centro-sinistra sarà scelto appunto da migliaia di persone, non da poche persone chiuse in una stanza a Fano o in altre città. In questi anni mi sono occupato sia di lavori pubblici che di urbanistica arrivando ad adottare un nuovo piano regolatore per la città di Fano. Sono scelte importanti che questa comunità deve continuare a fare avendo una visione a lungo respiro perché Fano nel contesto delle città medio-piccole di questa regione deve emergere e per emergere deve fare scelte coraggiose. Quindi mi candido affinché queste scelte possano essere fatte, mi candido per continuare il lavoro con passione e determinazione, mettendoci la competenza e comunque all'ascolto della città e quindi mi candido perché questa città sia migliore rispetto ad oggi. Sicuramente il civismo in questi anni ha saputo esprimere un valore importante di vicinanza alle persone, di esprimere il concetto del fare per la città. Oggi ci troviamo insieme a tutta la maggioranza per esprimere la nostra voce a ricercare una candidatura forte che possa rappresentare meglio il centro-sinistra con degli amici con i quali abbiamo fatto un percorso insieme e con i quali bisogna dare continuità ai grandi progetti che abbiamo portato avanti ma anche saper guardare le nuove tematiche del futuro. Restiamo a Fano ma cambiamo argomento perché emergono resti archeologici sempre più interessanti in piazza Andrea Costa dove sono stati individuati i resti di strutture murare e pilastri di forma quadrangolare. Fra questi emergono anche osso umane risalenti a secoli fa tra cui uno struggente abbraccio di un adulto ad un bambino. Il tutto fra strutture murare in mattoni ascrivibili in ipotesi ai resti del convento di San Daniele esistente ancora agli inizi del Novecento. Nel corso delle operazioni di pulizia dell'area a mano è stato anche individuato un pozzo di forma circolare in buono stato di conservazione. Ieri vi abbiamo parlato dei lavori che mancano all'appello per la ciclovia del Foglia mentre entrano nel vivo i cantieri per la stessa opera a Padiglione di Tavuglia. La ciclovia interessa infatti in parte anche questo territorio comunale congiungendosi alla pista ciclabile esistente a Padiglione che già unisce il centro urbano con Montecchio e Bottega oltre al tracciato delle piste lungo il fiume Foglia a case Bernardi e Rio Salso. In questi giorni si è provveduto in particolar modo alla posa dei piloni in vista della realizzazione di due ponti che attraverseranno il fiume Foglia. E ieri 20 febbraio il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emesso la prima moneta della collezione numismatica della Repubblica Italiana 2024 dedicata a Pesaro Capitale Italiana della Cultura. La moneta in rame del valore nominale di 5 euro ha una tiratura di 4.500 pezzi e si presenta in versione Fior di Cogno. È stata realizzata dall'artista incisore Uliana Pernazza e prodotta presso le officine della Zecca dello Stato e riproduce nel dritto Rocca Costanza mentre nel rovescio Palazzo Ducale è la fontana di Piazza del Popolo in tutto con la scritta Capitale Italiana della Cultura 2024. Restando in tema di Pesaro 2024 il Rossini Opera Festival in questo anno non solo si proporrà in versione extra large nel tradizionale mese di agosto del ROF ma anche dal prossimo sabato proporrà un'altra novità. Ogni weekend ci saranno tutte le 39 opere rossiniane che saranno messe in scena attraverso i suggestivi concerti dal balcone dalla casa natale di Giochino Rossini. Il successo dei già sperimentati concerti dal balcone di casa Rossini si moltiplica per 39 nell'anno di Pesaro Capitale della Cultura. 39 quante le opere rossiniane che il Rossini Opera Festival proporrà per 39 sabati dal 24 febbraio al 16 novembre. Si chiama Playlist Rossini un concerto lungo un anno il suggestivo progetto che ogni sabato avvolgerà di aree rossiniane la via del centro pesarese intitolata Alcigno. Un anno importante in cui il festival fa un grande sforzo per onorare degnamente questa eccezionale ricorrenza. Quindi non solo ci sarà un festival come più volte annunciato molto più robusto del solito con tanti appuntamenti in più ma anche questo progetto che dopo l'anno del 2023 in cui Rossini Opera Festival ha completato il catalogo rossiniano proponendo tutti i 39 titoli rossiniani quest'anno li riproponiamo tutti nello stesso anno con questa formula particolarmente interessante, intrigante dei concerti dal balcone. Una formula che ci consente di arrivare anche a un pubblico nuovo diverso da quello nostro solito perché è gratuito innanzitutto si fa in strada quindi tante persone vengono appositamente ma tante anche si accorgono di questo evento che arricchirà il programma di Capitale della Cultura. 39 settimane, 39 opere di Rossini. Vogliamo fare un percorso ogni sabato in un orario che d'inverno si può anche sopportare bene cioè verso le 6 del pomeriggio ripercorrendo questi 39 titoli con dei ragazzi dell'Accademia ex ragazzi, ex accademici che parteciperanno a volte in due, a volte in tre a ogni concerto ognuno dedicato a un titolo rossiniano saranno in 30 ragazzi che hanno accettato di partecipare e penso che sarà una cosa interessante logicamente di ogni opera ci sono dei concertati, dei duetti, dei terzetti che è impossibile fare però diciamo che abbiamo scelto di ogni titolo dei pezzi particolari che saranno apprezzati. Si comincia durante le settimane rossiniane che celebrano il 232esimo compleanno di Gioachino Rossini si chiude a novembre quando si commemorerà il 156esimo anniversario della sua scomparsa ad aprire il concerto lungo un anno sarà l'opera Demetrio e Polibio interpretata da Andrea Nigno e Omar Ceparolli primo appuntamento 24 febbraio alle 18 mentre tutti i concerti successivi si terranno alle 18.30 E cambiamo argomente parliamo di due pizzaioli di un ristorante di Pesaro classificatisi al primo posto ai mondiali di pizza tenutisi a Rimini nei giorni scorsi. Pesaro sale sul gradino più alto del podio alle finali dei campionati mondiali di pizza senza frontiere tenuti si a Rimini un risultato che gratifica il ristorante La Macelleria Cucine Pizza di Via delle Gallegherie con i suoi due pizzaioli Edoardo Barone e Gianfranco Tinto che centrano il bersaglio grosso nella categoria pizza napoletana tradizionale. Siamo assolutamente contenti di questo risultato ovviamente inaspettato visti sono meglio oltre 600 partecipanti da tutto il mondo i ragazzi hanno fatto lavoro straordinario ma non ieri ma in questi quasi 4 anni creando un impasto che oggi possiamo dire assolutamente al top mondiale. Barone e Tinto hanno saputo trovare ricette vincenti in mezzo ad una guerrita concorrenza. La cosa più strana è stato quello che avendo partecipato come azienda ma singolarmente i due pizzaioli sono arrivati allo stesso punteggio questa cosa insomma ci fa pensare che davvero effettivamente gli assaggi vengono fatti con professionalità e quindi hanno riconosciuto nonostante l'esibizione se è stata a distanza di tre ore una dall'altra hanno riconosciuto lo stesso impasto e abbiamo proposto due pizze classiche la bufalina e la nuova Napoli per una Napoli rivisitata con prodotti a chilometro zero e prodotti campani e quindi questo ha premiato i miei due collaboratori. Insomma nell'anno di capitale della cultura Pesaro finisce sotto i riflettori anche per la buona tavola. Sicuramente è importante per Pesaro per la capitale della cultura avere anche una ristorazione al top perché sappiamo che i turisti oltre insomma ad avere bisogno di strutture recettive importanti di un'ottima accoglienza del mare della splendida piaccia del popolo che è stata ultimamente riqualificata chiaramente vanno anche a mangiare in ristoranti quindi è importante avere dei punti di riferimento anche a livello culinario. E passiamo allo sport impresa sfiorata dall'Ital Service Pesaro Calcio 5 che viene eliminata dalla Coppa Italia cedendo solo ai supplementari al cospetto dell'Olympus Roma capolista della Serie A. Nella capitale l'Ital Service ribatta infatti colpo su colpo ai tempi regolamentari chiusi sul 2-2 dopo che le reti peseresi di Murillo Schiochette e Vava avevano portato sul 2-0. L'Olympus però pareggia con l'ex di turno Marcellinio e allunga ai supplementari fino a un 6-5 finale in cui Pesaro dà battaglia con i gol di Barichello e la doppietta di Andrè Ferrera. A tenere banco sono però ancora gli errori arbitrali e oggi il presidente Simona Marinelli è intervenuto con un comunicato che ricorda come la squadra se la sia giocata alla pari mi è andata a sbattere contro un arbitraggio iniquo che soprattutto nei momenti chiave della partita ha fortemente penalizzato l'Ital Service. Dopo due partite dice la Marinelli in cui abbiamo visto di tutto nei nostri confronti la presidente dice appunto basta rispettiamo i risultati del campo ma allo stesso tempo vogliamo essere rispettati come persone e come società. E concludiamo il nostro notiziario restando in tema di sport con la Vitri Frigo Arena che domani ospiterà la nazionale italiana di basket nel match di qualificazione agli europei contro la Turchia. Italia che oggi ha presentato questo prestigioso appuntamento in una conferenza stampa tenutasi nelle comune di Pesaro. Pesaro è pronta ad ospitare per la tredicesima volta nella sua storia la nazionale italiana di basket e per la seconda volta consecutiva lo farà in un match ufficiale. Dopo Italia-Spagna di qualificazione mondiali di novembre 2022 domani giovedì 22 febbraio alle 20.30 parte da Italia-Turchia la corsa agli europei 2025 che si terranno in Lettonia, Polonia, Finlandia e Cipro. Domenica poi la seconda gara in Ungheria in un girone completato dall'Islanda. Intanto però il primo passo è in una Pesaro che annusa un nuovo sold out come ventilato questo pomeriggio nella conferenza stampa tenutasi in municipio da Federazione e Tim Mazzurro. Pesaro non tradisce mai la nazionale c'è la storia di Pesaro che la dice lunga dei tempi di Valtescavolini a oggi è sempre stato un tutto esaurito non solamente per l'amore della nazionale ma anche per la squadra di casa per cui noi siamo a casa poi io sono particolarmente legato tutti i miei figli hanno svezzato qui e sono tifosi anche della squadra di Pesaro basket e quindi io con grande gioia certamente la partita sarà difficile molto importante la Turchia è una nazione che ama il basket ci saranno anche dei tifosi della Turchia questo non fa che arricchire l'importanza della partita è un'Italia che riparte nel filo della continuità con nove reduci dai mondiali nelle Filippine come Spi, Sut, Nut Ricci, Spagnolo Polonara Severini Procida Paiola e Melli che debutta Pesaro da capitano raccogliendo l'eredità di Gigi Datome alla sua prima da capodelegazione una nazionale che ha affrontato due competizioni più o meno con la stessa squadra sicuramente con la stessa mentalità con la stessa filosofia una famiglia allargata dove non ci sono solo 12 giocatori ma ce ne sono di più una squadra che sta bene insieme come si sta bene in famiglia penso che sia penso che sia indispensabile e poi penso che sia indispensabile poi in assoluto nel mondo dello sport è un'emozione già di per sé essere capitano nazionale far l'esordio diciamo ufficialmente non in sostituzione come era successo un paio di estate fa farlo a Pesaro ha come dire un ulteriore significato per me perché ormai 13 o 14 anni fa ho giocato qua a Pesaro per un paio di mesi e quindi insomma è un posto che porto nel cuore è un palazzetto che porto nel cuore e sono contento di fare il mio esordio qua quindi sicuramente la partita di domani sera con la Turchia è fondamentale poi ci sarà la partita domenica in Ungheria e poi dopo quest'estate ci sarà il preolimpico però un passo alla volta intanto pensiamo alla Turchia e poi dopo quest'estate quando ci ritroveremo penseremo alle Olimpiadi la verità è che che non sono delle amichevoli sono partite dove ci giochiamo la qualificazione all'europeo quindi ma i ragazzi ne sono consapevoli la parte più complicata è eventualmente convincere i giocatori dell'importanza della partita ma se domani dovessero giocare male non è sicuramente per questo motivo i ragazzi sono consapevoli di quello che fanno in maglia azzurra e lo fanno sempre lo fanno sempre con grande dedizione disciplina e professionalità sì sarà la prima che farà da Uverture poi dopo la partita con l'Ungheria al Preolimpico il sogno mio ho fatto 13 o 14 Olimpiadi non mi ricordo nemmeno tra le stive invernali è il sogno di tutti il sogno di tutti avete visto Sinner pure l'ha detto che il suo sogno adesso è prendere una medaglia all'Olimpiade per lui sarà sufficientemente facile per noi sarà importante almeno arrivarci abbiamo concluso con lo sport questa nostra edizione del telegiornale ma sarà all'insegna dello sport anche la nostra prima serata delle 21 e 20 come ogni mercoledì l'appuntamento è con gli occhi della Tigre il nostro format dedicato alla Megapox Vallefoglia la forma dedicato alla pallavolo e questa sera andremo a conoscere la palleggiatrice Victoria Cobzar e poi vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina come sempre in diretta alle 7 e 20 con la rassegna stampa Buongiorno Rossini che per questa edizione del giovedì sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi e poi in omaggio alla scomparsa di Ivana Baldassari che vi abbiamo ricordato poco fa all'interno delle notizie delle TG Rossini TV riproporrà venerdì 23 febbraio il documentario Ivana Baldassari racconta Vilino Ruggeri 4 acquarelli opera di Franco Fiorucci un omaggio dunque alla giornalista scomparsa che andrà in onda su Rossini TV venerdì alle ore 21 e 20 Si conclude qui il nostro telegiornale vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi